Quest'uomo è uno youtuber. Tre anni fa è partito alla volta di Venezia per un lungo viaggio. Dopo aver accumulato ore di materiale, nacque una saga leggendaria, Meet the Casta Stories. Alla fine dell'era dei raduni, e soprattutto dei soldi, egli si rinchiuse in casa e non partì mai più. Ora, alle porte del Luca Comics and Games, la saga si riapre con un nuovo capitolo. E lui è pronto a tornare. Il suo nome è Mr. Writers. Here we belong Fighting to survive in a war with the darkest powers We were born to be princes of the universe We were born, we were born, we were born, we were born.